Dopo mesi di trattative su tutto il territorio nazionale, la Confederazione delle Misericordie non ha voluto sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro Ampas Misericordie per l'unificazione dei due contratti, operazione funzionale alla successiva ricomposizione contrattuale con il contratto della Croce Rossa italiana come da verbale di accordo del 4 giugno 2021. È la funzione pubblica della CGL di Arezzo a denunciare la situazione ed annunciare un presidio a Firenze proclamando anche lo stato di agitazione a livello nazionale per un rifiuto definito penalizzante ed ingiusto. Di fatto, con il mancato rinnovo del contratto, la Confederazione delle Misericordie non sta dando risposte ai lavoratori secondo il sindacato sia per gli aspetti contrattuali e normativi che per la parte economica sostenendo che non può riconoscere i lavoratori aumenti salariali come invece erogati da Ampas l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Misericordie prosegue la funzione pubblica non riconosce un aumento salariale a quei lavoratori che sono stati in prima linea durante la pandemia e che ancora oggi continuano il loro operato a tutela dell'utenza fragile. Non è tollerabile per la CGL che parità di mansioni svolte ci siano disparità di salario dunque, dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione dello scorso maggio al Ministero del Lavoro concludono i sindacati, siamo costretti a proclamare lo stato di agitazione a livello nazionale per la Toscana il 21 giugno nella sede della Federazione Regionale delle Misericordie dalle 10 alle 12. di soli e di soli a livello nazionale delle Misericordie dalle 10 alle 12.